I quattro cantoni tornano con una nuova veste e nuovi contenuti ed anche se in realtà sono cinque rappresentano tutte le anime storiche della città di Fano. Allocate sapientemente nei punti che più si prestano alla bisogna si potranno rivivere il periodo romano, quello malatestiano oppure calarsi nell'atmosfera della Fano dell'Ottocento oppure in quella più viscerale del porto o vivere gli sfarsi dei nobili e blasonati lustri cittadini fanesi. Cene a tema ed eventi collegati al periodo inerente e novità di quest'anno la gara fra i cantoni per aggiudicarsi il primo trofeo messo in palio dalla direzione artistica dell'evento. Quattro cantoni non è una festa tanto così per dire, ha una radice ben precisa. Sì ha una radice ben precisa e non deve essere una festa così per dire deve avere un vestito veramente importante in modo tale che perlomeno all'inizio la provincia ma anche la regione parli di quest'evento perché noi siamo rimasti un po' indietro su questa cosa. Se riusciamo a portare gente da questa cosa qua facendo partecipare veramente io penso che sia una cosa molto molto bella. Ecco c'è anche una gara, una competizione per stimolare un po' la creatività dei singoli partecipanti e insomma cittadini del cantone. Sì perché io ritengo che la gara sia importante nella vita perché il gareggiare anche se poi non si vince ti porta a migliorare a fare cose che io infatti vedo che ci sono già dei cantoni che si sono mossi facendo fare delle cose belle importanti per poter vincere questa coppa. Penso che la gara sia veramente necessaria. La tipicità, la tradizione di questa festa è un modo sicuramente per aumentare e migliorare il racconto della città a chi ci viene a trovare ma anche ai cittadini perché i luoghi individuati sono appunto la condensazione dei momenti storici più importanti della città, i tipi di vita, i tipi di ceti sociali anche che fanno avuto nella storia e poi l'unire la tipicità dei costumi e delle epoche con l'enogastronomia penso che sia una bella formula.